Signori, io direi di partire e partiamo con un piccolo recappone, un piccolo recappone che, capite no, questa antitesi, piccolo ma è recappone. Cronologia trasferimenti, perché andiamo a vedere un attimo come ci siamo comportati. Abbiamo venduto Sanne, abbiamo venduto Andresen, abbiamo venduto Zumberi, abbiamo venduto Azicadunica questa cifra, ma semplicemente perché ci hanno pagato la clausola Rescistroia, e abbiamo venduto Rab al Mid-Zilland, abbiamo acquistato poi come terzino sinistro Arthur, dal Friburgo abbiamo acquistato anche Autoblu con Rocconi, Mifra, abbiamo dato in prestito su Honen, abbiamo preso per sostituire a Zicadunic il difensore centrale del Mid-Zilland, ci sta, mi piace, a 3 milioni, Lee Han Byom, poi abbiamo preso sulla tre quarti l'Iztes dal Ferenc-Varoche per linkare Nemeth, sono entrambi ungheresi, venduto Mifra al Southampton, venduto Fernandes al Mid-Zilland, abbiamo preso la nostra nuova droga, Aravena in Vena, dal Cattolica, un esterno molto molto interessante, Angels come centrocampista centrale, Mejid l'abbiamo dato in prestito, Vitic come difensore centrale, e Kran l'abbiamo venduto, quindi in sintesi, in soldoni, questa è la nostra situation. Abbiamo Autoblu con Mikkel, primo sostituto, in difesa ci siamo perché abbiamo Lee Han Byom, Vitic, quindi due nuovi, e primo sostituto Sean Lau, Ambrosius, e si gode. Mikkel Bransis sul terzino di destra, punto su di lui perché ha 19 anni, Arthur sulla sinistra, si gode. Reis, Benes, Ferai, al posto di Ferai, Listes, al posto di Reis, Angels, manca un altro centrocampista che possa essere un pochettino più... Con il gol nelle gambe, mi verrebbe da dire, qua davanti ci siamo, Koenigdorfer, Yatta, primo sostituto, vabbè, dovesse arrivare un'offerta, io Yatta lo faccio volare. Aravena, con primo sostituto, il Barbone, che non si ricorda cosa aveva fatto la serie prima, ma solamente il nome dell'ultima sostanza bevuta, ovvero Dompe, e Nemeth e Gladzel, però io vorrei prendere un altro attaccante. Quindi cosa ci serve? Forse un'altra alla destra se parte Yatta, un'altra a prima punta, un altro centrocampista, che possa giocare da mezza... qui, che possa giocare qui ma con il gol nel sangue. Direi che ho fatto un ottimo, ma un ottimo resoconto. Solo io ci vedo bene il Dizza, infatti l'abbiamo messo a seguire. Incredibile pure io, Autoblu... Ebbè, sì, ma come fai a chiamarlo? Atubollu? Ma non si chiama Atubollu, è come Valera. Cioè, come si fa a chiama Varela? Valera. Atubollu si chiama Autoblu. Punto stop, va. Ma un Pululu nazionale come meme? Ma Pululu è il meme di Tierless Raptor. Facciamo che i meme dei content creator li lasciamo ai content creator di riferimento? Facciamo così. Cosa me ne faccio di Pululu? È il meme di Tierless, lo lasciamo lì. C'è un sedizione scostese che ha 59 di over, 85 di posizionale assurdo. Miller si chiama, se non sbaglio. Il mitigo Miller. Yamal non c'è. In zone prime, incoming in questi giorni, si gode. Ma sapete che io con l'inizio dei nuovi giochi calcistici mi gaso. Non so se fare una carriera con il Lecco o con la Feralpi. A me la Feralpi gasa di più. Allora, io volevo... Allora, sul centrocampo non so. Secondo me il migliore che si può prendere... Ah, Milley è esattamente quello del Newcastle. Ah, Milley è quello del Newcastle. Beh, potremmo prendere Milley, effettivamente. Andiamolo a provare subito. Tra l'altro, secondo me... Adesso, non adesso, è Lewis. Jamie è il fratello. Lui è buono. Potrebbe fare anche un bel upgrade da trequartista. Però, nella realtà... Adesso vi faccio vedere anche l'altro. Nella realtà, il Newcastle, secondo me, su di lui ci punta. E ci punterà, più che altro. Questo è il fratello, ma è un pochettino più scherzo. Non ho molto budget. Ho 30 miliardi. No, 17 milioni. Per quanto riguarda l'attacco, invece... Io avevo messo il Diz. Io avevo messo il Diz. E Franculino. Ma dove è andato il Diz? Eccolo qua. Solo che mi dice che può fare la T e l'esterno di sinistra. Io pensavo fosse una prima punta. Sono sincero. Se no... Can... Com'è che si chiama? Quello di cui vi avevo parlato... Ecco, Kanu Zun. Però è un trequartista. Nel Norimberga lui sta giocando da attaccante. Lui è molto... Lui è molto forte. Boh, non saprei dirti se è realistico. Ma sbattete nel casto del realismo. Mentre ti fidi di me, allora prendi Pukstas. E fallo crescere come un cammello burundiano. No. Ma Foti giron solo ancora in giro? Ma basta, Foti ha rotto le pali. Poi Ampalo. Per l'attacco? No, dai, qualcosa di più. Proviamo gente giovane. Proviamo gente... Infatti Acciughina gli fa fare la TT. Eh, allora, ci siamo. Pukstas l'ho provato sul 23, non era male. C'era? Fabrizio Diaz a centrocampo per coppia... Per coppia sudamericana con Aravena. Fabrizio Diaz mi sta sulle palle perché ha deciso di andare a giocare in un buco di culo grande come una casa. Quindi non mi interessa gente così a me. Gente senza ispirazione, senza voglia di... Senza voglia di fare. Non mi interessa. Gentaglia. Gentaglia quella. Un attaccante abbastanza particolare potrebbe essere... Boh... Io vorrei provare gente nuova. Gente che è stata inserita in questo gioco. Quindi il Diz potrebbe essere perfetto. Sennò anche Kristovic. Non mi dispiacebbe provare anche Kristovic. Sennò, se provassi... Scusatemi ragazzi. Possiamo provare Zan Vipotnik di scoccia? Possiamo provare Zan Vipotnik. 75 di potenziale non è un granché. Però... Vorrei provare a fargli fare sta prima stagione con noi. Perché... Perché l'ho seguito nella realtà. Kristovic. Grazie per il follower Capitan Dragone. Grazie anche a Ertex. E Zan... Gliel'hanno messa la faccia a Zan Vipotnik almeno. Te prego. No madonna mia. Senza faccia. Tarmiano o faraoni titolare al Fanta? Se è tornato dall'infortunio direi faraoni. Mamma mia Giucanovic. Spettacolo. Victor Giucanovic. Non so quanto potenziale gli hanno dato ma... Spettacolo puro Victor. Però ormai sulla sinistra siamo coperti. Abbiamo preso la ravena. Se se ne dovesse andare Yatta... Sentite ma facciamo volare Yatta. Che cazzo ce ne prega. Facciamolo volare Yatta. Yatta fa schifo. Non lo so se fa schifo Yatta. Andiamolo in presto. Sentite ma andiamolo in presto. Ernest Pocku l'ho già messo a seguire. Fra scusa mi puoi ripetere? Grazie al capitano Dragone. Ho detto. Ma siamo contro l'Erta Merdino. In Coppa. Def Bepokal. Eh niente si gioca. La Def Bepokal si gioca per forza. La dobbiamo vincere. Allora vi faccio... Fuscureggie. Durutti. No. Avvio pronostico. Insomma risultato. Ma no vinco perdo pareggio. Eh ma vinco perdo pareggio. Contro l'Erta Merdino non è semplice. Volevo andare a vedere prima la loro formescia. Eh... No semplice. No semplice. No semplice boys. No semplice per nulla. Abbiamo tre minuti. Mm mm mm. Allora. Eh... Facciamo giocare Heier. Mick Brances gioca. Oggi facciamo giocare Sean Lau. Benes. Molto molto Benes. Molto molto Bestness. Poi ci andiamo con loro. Perfetto. Siamo in campo. Siamo in campo. Hamburgo. Andiamo. Dopo continuiamo con il calcio mergato. Quando l'ha iniziata? Ieri. Ducanovic da comprare perché è sempre una bestemmia. Non sto facendo male con la Hammer B. No mettendo su Faraone o ma... Ah allora Faraone. 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 Se è tornato dall'infortunio Faraone. Assolutamente. Sì sì. Poi di certo... Grazie ancora Giorgio. Ogni volta che vedo dieci abbonamenti regalati... Boh. Sono contento. Poi è chiaro. segnare a Darmian. Però io metterò i Faraone. No dai ma che cazzo di magliette. Mi andate a fare i... I boccolotti d'Antonio andate a fare. Zio prete. Ma chi è Borrelli? Borrelli? In che senso Borrelli? Raga. Ogni volta che devo giocare una parete vi prego ditemi. Maglia Menzo! Bravo Sean Lau. Chi si ricorda di Sean Lau? Vediamo. I più attenti si ricorderanno di Sean Lau. Dove l'abbiamo utilizzato? Mamma mia Sean Lau. Dove l'abbiamo già utilizzato Sean Lau? A fare le bestemmie. Dammi sta palla. Bravo Laszlo. Konigsdorfer. Non capisco chi è il mio giocatore. Reis. L'allarga dalle parti di Aravena la nostra droga preferita. Fatti di Aravena. Siamo fatti di Aravena. Mamma che bel cross te merda. Ma cosa hai colpito? Un sasso? Uno scoglio nel mare? Come si chiama questo? Chi mi sta palla? Non è fallo direttore. Governanza del frusinone non è male. Grazie per il follow Christian. Esatto. Allo Schalke. Ma chi è che mi sta chiamando? Porco. Ma sono il live zio prete nostalgico. Ma chi è questo? Moise Ken. Dammi sta palla. Oh. Mi devi lasciare. Bravo Sean Lau. Raga non capisco niente. Sono troppo simili queste magliette. Non mi avrete. Non avrete il mio popò. Ole. Siamo con il Dwarfer. Non so chi gioca con me in questo momento. Non capisco niente. Ma noi siamo in pigiama. Come Don Pea ha rotto il cazzo? Ma non sta neanche giocando. Poverino. Ma perché? Auto blue corro con i miei fra. Eh lo so sono le cuffiette. Lo so sono le cuffiette. Per quello che non riesco a capire i colori. Perché non ho le cuffiette. Ora ha tutto più senso. Ehi. Ehi. Di palle. Ho messo i falli di mano. No dai. Non ho voglia di mettermi le cuffiette. Guardalo. Nonna mia che apertura. Apri sta finestra. Ok. Luca Brans. Luca Brans. Luca Brans. Dai. Ludovic. Che errore. Ma perché ho letto IML in SAT? Non va bene. Presto che non resisto. Italodisco. Il DJ è Don Pei. Nemeth. Ma che. Ma vai a scoreggiarne la farina. Ma cosa? Tu non hai capito che forse Michael Brans sia il terziro più forte del mondo. Quando è che io lo spieghiamo? Michael. Michele Bransisco. Ma come giochiamo? Però. Ah. Ah. Scusate. Mi è scappato. Ogni tanto succede. Così. Eh porco. Don Pei. Ma legherai anche su YouTube la carriera? Sì. Marvin Cuni del Frosinone. Ma. Non so. Non so. Ma chi che stava facendo la spaccata? Presto che non resisto. Michael Brans is. I Koningsdorfer. Quanto sono forti. Ma vai a scoreggiare. Friggan per l'attacco del Vesterlo. Eh. Gioca nel Vesterlo? Vai Friggan. Quello che non giochi in un'altra squadra. Oh parca paletta. Niente. Guarda di là. Guarda che c'è la Ravena. La Ravena. La nostra unica troca. Non troccatevi solo di Ravena. Ma non ce l'ha. No no. Siamo a sui fatti di Ravena. A sui fatti di Ravena. Ma giocagliela però. Perché scivoli? C'hai i pattini. Dammi. La palla. Zef week. Zef week. Zef week. Zef week. La Spalmas. Marmolo si è fatto cacciare. Dammi sta palla. Nello scorso. Nello scorso match. Poverino. Poverino. Poveretto. Tutto il D sul gabinetto. E Marianna. Compia il sere. Gli pulisce. Il suo sedere. Nemet. Koningsdorfer. Attenzione perché possiamo andare. Possiamo partire. Oggio perché è più veloce di Kef. Koningsdorfer è partito. Davanti al portiere. Koningsdorfer. Vasi croc. Parata. Tiraccio centrale. Quante transition. Vuoi farmi vedere? Gioco. Sì. Ah. Michael Branson è stanco. Andiamo con Arthur. Dalinga non mi dispiace. Dalinga. Ah. Sì. Sì. È arrivato il momento di segnare ragazzi. Ferrai? Punto di domanda? La risposta è sì. Io ferò. Io ferò. Tu ferrai. E gli ferà dentro Don Pe. Sì. Mi stai molto simpatico. Ti ringrazio Christian. Grazie. Grazie per il follow e spero di vederti con noi per tantissimo tempo. Ikerbilla. Merding solo per il nome va preso per l'attacco. Mitico attaccante della Zeta Merding. Che però è andato in prestito. Occhio da Ravena. Eier. Eia. 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 Ma c'è per le... Eeeh. Eeeh. Ma è già all'ottantesimo. Devo fare i cambi. Raga dovete ricordarmi. Dovete spammare in chat. Cambi. 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 Dumpi. Effettuerà. Dobbiamo effettuerà un po' di cambi. Effettuerà. Effettuerà. Effettuerare. Scusate abbiamo un piccolo problema in cuffia. Non hai le cuffie. Effettuerà. Nemeth. Nemeth. Madonna Nemeth. Madonna Nemeth. E' tutto così brutto quello che è successo. E' tutto così orribile. Abbiamo vinto. Non abbiamo effettuerato niente alla fine. Vabbè. Vi pago. Vince la scommessa chi ha votato vinco. Eh? Bravi. Bravi. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Sì. Def Beppokal. Zio Preti. Stanotte è quello che preferisco. Offerta per il prestito di Yatta. Grazie Chester per il follow. Perfetto. Dal Nasr. Ciao. Volevo Sam. Grazie mille per il rinnovino. Grazie per il sesto mese. Yatta sta per partire. Au revoir. Ciao. Volevo Sam. Grazie ancora. Offerta prestito Yatta. Vabbè ma Yatta non credo sia... Sia Basco. Non so cosa vi ha raccontato ma non credo sia Basco. Vabbè. Io non voglio saperne niente eh. Poi non mi... Pagata la clausola di Konigsdorfer. Voi state scherzando. Ma quante clausole? Mosca! Grazie mille per il 41esimo mese. Il 41esimo mese? Mamma mia Mosca. Che pazzo. Che pazzo. Spettacolo. Grazie ragazzi. Allora. Muhain qua ha una clausola di 3 e 2. Rinnoviamogliela. Vabbè 4 e 2 va bene. Ok. Scurse te e le clausole. Poi. Olivera. Ma magari me la pagassero. Dompe. Ma magari me la pagassero. Konigsdorfer no. Konigsdorfer si rinnova. Olé. Clienti mi hanno distratto e non ho potuto motivare. Allora. Si festeggia il fatto che hanno scelto mio figlio come capitano della squadra per questa stagione. E anche che farà da raccattapalle per il first quindicesimo della nostra città. Quindi dal 14 ottobre lo vedrai su The Zone. Ma va! Mitico! Grande Jonju! Complimenti a tuo figlio. Questa game week di Sorair com'è andata? Quella passata? O... Quella passata sono andato a premio. Sono andato a premio. Ho vinto i 5 euro della cap. 240. E ho vinto una carta tier 4 under 23. Ok. Perfetto. Bene. Il mercato si sta muovendo. Top data di trasferimento chi? Accordo per il presto. Yatta. Al Nasser. Ok. Ciao Chromatic. Grazie per il follow. Ok. Sono arrivati un po' di resoconti. Quelli che ci interessavano. No 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 no. Ricordo per il prestito. Yatta. Sceglierà lui dove andare. Possibile cambio ruolo per Aravena. O... Ole. Più uno. È rimasto umile a Aravena. Però non ci piacciono i ragazzi umili. No mi cautazze. Un peletto drop. Peletto drop. A questo punto sono arrivati i resoconti. Quindi andiamo lì a vedere. In difesa ci siamo. A centrocampo. Eh però a centrocampo ragazzi. Meglio guerra rispetto a melee. Un po' male. Adesso vediamo quanto spendiamo qua. Qua davanti. Krstovic. Krstovic costa un fumo ragazzi. Krstovic in questo momento non ce lo possiamo permettere. Quindi ci tocca andare a prendere Zanvipotnik. Oddio. Questo è un fumo. Ci sono state milioni. Però secondo me... È più giusto andare a prendere Zanvipotnik. Perché Krstovic è davvero molto forte. Puntiamo su Zanvipotnik e Nemet. E poi dobbiamo prendere anche un altro centrocampista centrale. Un altro esterno di destra. Quindi spendiamo un po' meno. A centrocampo Gavi. Io ho. Io ho. Allora abbiamo 17 milioni. Siamo L'Amburgo. Siamo L'Amburgo. Gavi. Valore 70 milioni. Valore 70 milioni. Gavi. Allora. 70 milioni. Calcolatrice alla mano. Allora. Abbiamo. Di quelli che sono adesso in rosa. Abbiamo. 300 mila. Più 500 mila. Più 1.4 milioni. Più 1.6 milioni. Più 1.6 milioni. Più 1.7 milioni. Più 1.7 milioni. Più 1.9 milioni Più 2.2 milioni Più 2.8 milioni Più 2.9 milioni Più 2.9 milioni Più 3.1 milioni Più un altro 3.1 milioni Ho sbagliato, ho lo stesso Possiamo aggiungere tranquillamente 1 milione Più 3.2 milioni Più un altro 3.2 milioni Più un 3.7 milioni Più un 4.2, tra l'altro, molto interessante Più un 5 Più un 5 e 5 Più un 6 Più un 7,5 Più un 8,5 I giocatori presenti all'interno della rosa Formano un totale, se non ho fatto male i conti, di 75 milioni e 400 Gavi vale 70 milioni Io per prendere Gavi Dovrei venderli tutti Tutti Che cazzo di consiglio è Gavi? Adesso non volevo essere Però ci stava per chiudere Però dico Perché Gavi? Perché mi consigli Gavi? Eh? No dai Vi voglio tanto bene A proposito del video di qualche giorno fa e dell'infanzia Mannaggia te a me Ho avuto paura leggendo il titolo Brividi ripensando tutte le carriere challenge E resta in tema Sappi che i tuoi video lo vedrò mio figlio prossimamente Ma è ufficiale questa cosa Grazie Mosca Grazie Mosconi Ti voglio tanto bene Incredibile Grande Ti stai spingendo avanti eh Non vi preoccupate ragazzi Si scherza Si fanno delle gheghette Delle gheghette si fanno Allora dicevamo Andiamo con Zan Voglio provarlo Perché non prendi Malignano in porta? Non lo so effettivamente Me lo son chiesto anch'io stanotte Stanotte mi sono svegliato Ma perché non prendo Malignano in porta con l'Hamburgo? 2.800.000 Zanvipotnik Lo scorso anno ho fatto il delirio nel campionato sloveno Quest'anno non è partito fortissimo con il Bordeaux Devo ammettere Non parte titolare Però Magari si ripiglia È un attaccante che non mi è dispiaciuto l'anno scorso Eravamo bambini quando è iniziato E guarda qua Ho scoppiuto 29 anni l'altro giorno Malignano Cazzarola è Malignano Ma chi è Malignano? Non so neanche che faccia sabbia Malignano Ciao Rik scusa sono entrato ora E a qualcuno della chat Come li devi impostare i preparatori per gli allenamenti? Tutto sulla lucidità o equilibrato? Dipende Dipende Ci sono Adesso ti faccio vedere Benvenuto Zanvipotnik nel frattempo Vero puntero Ci possono sfruttare tanto i cross con lui Come attaccante Quindi Andiamo a vedere un attimo il suo piano E poi ti rispondo Carissimo È più forte di Nemeth Il fatto che possa fare l'ala non esiste Per quanto mi riguarda Gli diamo torre Ma per il momento diamo gli rapace Però è un giocatore Molto fisico Zanvipotnik Un 85-81 kg Un po' pesante a volte Però è sicuramente un vero primo puntero E Cioè È molto semplice Come vuoi impostarli Il programma di allenamento I tuoi giocatori sono stanchi Gli imposti Per esempio Allora andiamo su Coreba Lui può impostarlo Sullo specifico Prestazione Prestazioni Questo programma di allenamento Si concentra sulle prestazioni I tuoi giocatori Migliorando la loro lucidità A riscapito della forma fisica Quindi se tu dai questo piano di allenamento A Coreba La sua lucidità Migliorerà A riscapito della forma fisica Quindi potresti trovarlo Un pochettino stanco Solitamente dopo le partite È meglio dare magari Un tutto sull'energia O Specifico per l'energia Perché? Perché questo programma di allenamento Serve a far recuperare energia Ai giocatori Migliorando la loro forma fisica A riscapito della lucidità Quindi il mio consiglio Quale può essere? Una volta finita la partita Se giochi qualche giorno dopo Gli metti un Al piano di allenamento Tutto sull'energia E quindi fai Applica modifiche E poi triangolo Applica programma Su tutto il gruppo Quindi tutti Dopo i giocatori Avranno quel tipo di allenamento Se no Quello che puoi fare È dargli singoli Quindi magari Chi gioca meno A chi gioca meno Gli dai un piano singolo Per tenergli alta La lucidità E a seconda I tuoi giocatori Dopo come sono messi Gli dai un piano di allenamento Io Per il momento Proverei a non dargli Troppa importanza Per valutare un attimo Effettivamente Quanto Quanto varia Questa cosa qui Per esempio Andiamo a simulare Velocemente questa partita Abbiamo vinto 1-0 Grazie a Koningsdorfer Quindi I nostri giocatori Adesso Non saranno Troppo Troppo in forma Vediamo un attimo Programma di allenamento Esattamente un giorno dopo Io quello che potrei fare è Piano Specifico per l'energia Tac Applica a tutti i giocatori E siamo tranquilli Perché loro Riprenderanno le energie Prima di fare carriere lunghe Consigli di fare una Più rapida Sì Assolutamente Prendici la mano Dompe nel frattempo Va in prestito No è Yatta È Yatta che va via In prestito 12 mesi All'Al Nasser Ciao No ma non ti preoccupare Cioè È letteralmente Buggata Letteralmente Buggata Questa modalità La dirigenza Ti romperà i coglioni Sempre Costantemente Dai tempo al piano di allenamento Dovete andare a fare in culo Semplicemente Tu gli rispondi così E poi Si attaccano Quindi Abbiamo per su Un esterno Di destra Per la precisione Abbiamo preso Zanvipotnik Dobbiamo prendere un esterno Di destra Poku È andato al Torino Mortacci sua Banda È ancora a Lecce Ma lo teniamo a Lecce Giucanovic Eh Giucanovic Potremmo prendere Giucanovic Per la sinistra E per la destra Però Andrejka Perché noi abbiamo anche Dompe Quindi a Ravena Sulla sinistra Eh Io farei così ragazzi Forse prenderei Un altro esterno Di sinistra Spostando Dompe Sulla destra Spostiamo Dompe Sulla destra No Anquist Resta a Lecce Consiglio Rodrigo Ghiatta Sceglie i soldi A noi Vabbè È andato in presto Un mese Chissà Quanto gli danno Ok Imposto Grazie a Pera Per il follow Grazie a Metz Per il follow Grazie a Lucone Per il follow Ci tornavo Mi ha cresciuto Un sacco Bitstrup Serve un terzino Sinistro È stato forte Un sacco Bladry Lodge Quo No Dompe Out No Lodge Co Ha un buon potenziale Un lot Quo Allora Dompe Scusate Ti va di diventare Una bella Alla destra Di quelle che dici Che bella Alla destra Grazie Julek Sulla sinistra Così siamo Un pochettino Più tranquilli Allora Io ve lo dico O Jukanovic O Ondrake Devono essere miei Li voglio provare Quindi valutate voi Vi faccio Vi faccio votare Perché la democrazia Ogni tanto mi piace Nuovo sondaggio Chi Andrejka Jukanovic Due minuti per votare Prima ve li faccio vedere Cosa ho cliccato Allora Questo è Questo Mannaggia i sandali Mezzo Allora Questo è Andrejka Ottime caratteristiche Per quanto riguarda L'accelerazione L'agilità L'equilibrio Dribbling Discreto 20 anni E ha come stile di gioco Passaggio incisivo Passaggio teso Rapido 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 Jukanovic Jukanovic Invece Ha un anno in meno Qualche punto overall in meno Però Le sue caratteristiche Di movimento Non sono per niente male Anche lui Può migliorare nel dribbling 71 di titolo della distanza Non ha Stili Non ha stili Quindi votate voi Chiunque venga fuori Lo prendo molto volentieri Ripeto Jukanovic Da prendere Perché è sempre una bestemmia Ok Hai anche te capitato Che il giocatore Avversario invisibile No per ora no La possibilità Il dist c'è Volevo prenderlo Sono sincero Ma forse Non è il caso Cioè ci starebbe bene Però forse Dobbiamo provare Altri tipi di giocatori Il dist Ce lo teniamo buono Come Uzun Il dist me lo terrei quasi buono Per una challenge Solo turchi Grazie Santos Per il follow Jukanovic Non ha stile Niente sfilata Per lui Eh Mi sa Colonia Montenegra Ma il bug Dello trafforo Dal buio Grande Santos Un saluto a te E ad Andre Mi dico Spizzico Spizzico Prognosti Quinta Sassuolo Ho tanta paura Io spererei Che stasera Lo scansuolo Facesse Lo scansuolo Che cosa ho detto Io spererei Che stasera Il sassuolo Facce Scansuolo Sassuolo Uguale scansuolo Ma poi non era L'ombra Perché Mitoma Aveva tipo i capelli Negativi No no ma Mitoma era Palesemente Silver Surfer Siete delle merda Ragazzi Ondrejka Giukanovic Ondrejka Vince È l'ultimo Non posso Crederci Erano pari Fino a un secondo Prima Spiazze Per Giukanovic Sarà per la prossima Volta Jakob Ondrejka In Incredibile Ragazzi Adè conosci Tec Tecno Escobar No Cristian Parlami di lui Presto Che non Resisto Dentro Ondrejka Il mio pupillo Sì 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 E lo spostiamo A sinistra Perché In realtà Lui gioca a sinistra Io non so Non so come mai Mi abbiano messo Alla destra Ma tu intendi Georgia Sono una donna Sono una madre Sono cristiana Io sono Georgia Una nazione Con potenziale Muy divertente Sono cristiano Grazie Francesco Per il follow È arrivato Jakobo Jakobo Ondrejka Il nuovo Kvaraskelia Cosa completamente A caso Che bello Questo calciomercato Completamente A caso Senza senso Solo per provare Giocatori Che vogliamo Effettivamente provare Wow Ma Ma Adesso così Su due piedi È difficile Forse Forse Te potrei dire Poi Ampalo Te potrei dire Poi Ampalo Sì Te dico Poi Ampalo Te dico Poi Ampalo Te dico Allora Questa partita Contro il Wiesbaden Andiamo a Ma chi è quel Gobbo lì Ma scusatemi Ma perché li hanno Fatti così Gobbi Sti giocatori Cioè Guardate Parejo Ha la testa Piantata Nel 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 busto Cioè Questo è letteralmente Parejo Questo è letteralmente Parejo Non è così Che deve essere I giocatori Tra l'altro I calzatori Sono anche abbastanza Slanciati Mannaggia I sandali Pacco Guardalo Guardalo Non hai il collo Sembra Maurizio Costanzo Santo cielo Andiamo a Simulare questa pareta Contro il Fjordhaven Andiamo a simulare Velocemente Grazie Quattro Quando scorrono i giorni Della home page Arriva una notifica Un'offerta o qualcosa Il gioco si ferma da solo Bisogna cambiare qualche impostazione No Tu per farlo fermare Devi restare così Vedi Se clicchi il triangolo Lì sulla destra Si è scritto Personalizza Avanzamenzo Puoi fare Blocca l'avanzamenzo Quando ricevi email Importanti Come offerte di mercato In arrivo Email stop Email ignora Se metti su ignora Non si ferma mai Mai Non si ferma mai È infermabile Unstoppable Hai già provato la visuale tattica Mi cogli impreparato Comunque Possiamo chiudere Con un centrocampista Che possa essere Offensivo Di quelli che dice E vado su A V guerra Quanto mi gasa Melee però Milete Proviamo un'altra volta Andiamo su AVI Che reggendico staff Scusaci Maurizio Perché non sappiamo Quello che diciamo Ti vogliamo tanto bene 5 milioni Ma te li regalano Sti ragazzi Sono dei fenomeni Te li regalano L'altro giorno Tra l'altro Stavo guardando L'Almeria Non mi ricordo Quanto è finita Satisfatto che ha fatto Doppietà a Ribas Cioè Sto giocatore Sto centrocampista Impresto Credo Da Real Madrid È stato Eccellente Tra l'altro Era Almeria Valencia Sì Ma Giocava sempre Con la maglietta Dentro i pantaloncini Posso dire che Io non giocherei mai Con la maglietta Dentro i pantaloncini Ma chi gioca E gioca bene Con la maglietta Dentro i pantaloncini È un figo della madonna Cioè A Ribas Era veramente Illegante Cioè Proprio illegante Quando giochi Con i pantaloncini Poi Se a giocare Con la maglietta Dentro i pantaloncini È Che cazzo ne so Non so Che cacchio dire Che ti posso dire Non lo so Un giocatore Scoordinato Tipo Krauts È orribile Ti puoi considerare Una carriera in Serie A A parte il Bologna Ti posso consigliare Lecce Signori Il nostro calcio mercato Comunque domani Esce un video A riguardo Cioè domani è Il video Le migliori squadre Da utilizzare In una carriera In Serie A Te lo giuro Quindi se vuoi aspettare Il video di domani Potresti godere molto E forte anche Questo è il nostro centrocampo Io non so Io non so se ci stiamo Rendendo conto E ci stiamo dimenticando Assolutamente Di listez Eh Tanta roba Non c'entra niente Guerra qui Eh Non c'entra nulla Però che è venuto a fare La Serie B Tedesca Quando gioca In Serie A spagnola Sapete cosa me ne frega Niente Ah 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 Nulla Ah Ok Io sono contento Ragazzi Sono sinceramente contento Ma perché tutti mi rompete le palle adesso Io sono in live In live Io sono in live Per rompere le palle Ciao Francesco Grazie per il follow E non parlo con voi Che siete in live con me Parlo a quelli che mi scrivono Sul telefono Quando sono effettivamente in live Contro il padelmo non giochiamo Offerta per il prestito Nemeth La zeta Fico No no ma è vero eh È vero Anche vabbè Io da portiere Avevo La necessità Guarda la Ferrari Pissalò Avevo decisamente La necessità Di Giocare con la maglietta fuori Perché Potevo allungarmi di più Detta così Effettivamente Abbastanza Orribile Me ne rendo conto Però 2-1 Vinciamo Però questo è il discorso Mi sentivo proprio Bloccato Con la maglietta dentro Raga noi il calciomercato L'abbiamo finito Qua arrivano delle offerte Per il trasferimento Ma no Allora Cioè Se non fosse stato Nemeth Il mio spirito Nordico Sarebbe totalmente Diventato folle Per questa offerta È che nemmeth Troppo interessante Da utilizzare Cosa mezzo Non ho capito Non cosa ho detto Ho detto qualcosa di brutto Posso dire di aver visto Giocare Eskyled Dal vivo Io mi caso Mi dispiace Lilleström Ma Devo rifiutare Possibile cambio ruolo Per Andrejka Mi diventa un'ala Di sinistra Benissimo Iniziamo il suo piano Di crescita Sono alive Basta Ma Nemeth Sta giocando Perché mi dovete rompere Le palle Ok Abbiamo il furt Questo furt A mano armata Il furt È quarto Quindi si va a giocare Calcio d'inizio Vogliamo provare Qualcuno di nuovo Vogliamo provare Vipotnik Facciamogli prendere Un po' di Ah devo cambiare Anche dompe Facciamo un po' di Cambi Sì Sì Facciamo un po' di Cambi Somma Risultato Per voi Somma Risultato Per voi Andiamo dentro Andiamo dentro Forza Hamburgo Però guardatelo Arribas Cioè È molto molto elegante Come giocatore Mi è piaciuto Veramente Un ottimo Davvero Un ottimo Ragazzo Molto intenso Andiamo di cross Raga Con Zanvipotnik Ci deve Cross Oh Perfetto Come sembra Autoblu Autoblu Per ora Non ha Malfigurato Devo ammettere Per carità Noi siamo una delle squadre più forti del campionato Quindi Anche difensivamente A volte siamo nettamente superiori Però Le volte che è stato chiamato in causa Ha risposto presente Ma Non è stato chiamato in causa troppe volte Quindi Aspettiamo Qualche altra partita Prima di Fare Giudizi Affrettati Spero di essere stato chiaro Mi è piaciuta L'intensità di questa frase Listes Undreica Ma no no come corre Come corre Undreica Come corre Come corre Undreica Sono Un po' Un po' Un po' stranito Non ho capito bene Cosa è successo Dammi sta valla Dammi Vipotnik Undreica la richiama Ma che tiro di merda Andreica Te la posso dire A Jakob Bravo però Perzan Vipotnik Vipotnik Col piazzato Niente Rigore Niente Ci ho provato Riccardo Grazie mille per l'ottavo mese Eccoci qua Ancora insieme Grazie Grazie Armindo Suka Che pala De merda Michael Branson Che cazzo è Cialanagolo del fortuna Vabbè Anche meno Tommy Non lo so Forse è quel cialanagolo Che giocava nello Schalke Occhio Armindo Sieb La mette dietro Cialanagolo Qualcuno Someone Anyone E Armindo Niente Ecco A tubo Niente da fare A tubo Lù Con il mio frà Messa lì O messa lì Ciao Occi Cialanagolo del Schalke Cialanagolo Chi cazzo è Cialanagolo del fortuna Ho fatto molto ridere Ciao Emanuele Occhio all'Arthur Omdreica Hai un peso Sulla coscienza Niente male Corri 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 Ragazzo Laggiù Pappara Zambi Potnik Con il pareggio Zambi Potnik Il fotografo Sloveno Appareggia subito Corri Vipotnik Laggiù Pappara Appena visto l'episodio 4 Di 6 Yes Non sei pronto Per il quinto Allora Non sei pronto You are not Ready For the Fifth Episode Because I already Occa Because I already Recorded I've already Recorded Che brutto Che schifo Possiamo dire Che schifo Che schifo Questo fortuna Che Questo furt Scusate Koenigdorf Koenigdorf Fino in fondo Koenigdorf A mettere il me Mannaggia la puttana Poi basta Thomin Fa ridere una volta La seconda non più Puoi ritirarti Grazie Bravo Benes Bene bravos Vabbè Fanbook Allora Cambi Corri on Drake Dentro Don Pe No come Don Pe Ma che panchina De merda Ma perché Sono così Uno sciocchetto Ma guarda Che mi sono portato Dietro Ma porra Vabbè Mettiamo Don Pe Va Ciao Spister Andre Puoi fare Il discorso Di ritiro Però effettivamente Che cazzo è Quello che hai detto Tu nel secondo C'è Bravo Bravo Ok Ludovic Zan la protegge Bravissimo Listes Vickr Brances Mettila bene Non è male Raga Non è male Zan Vipotnik Non ci posso credere Che è questa Porca 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 Quadrifoglio Quadrifoglio Un bocca Nel prive Che caspiterina Fai Mikr Brances Non te ne vai Lì Ambeoma C'è i sandali Allora Listes Dentro Ferai Foribenes Dentro Angels My Angels My Angels Change 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 andiamola a vincere Non credo sia possibile Tre minuti è veramente improbabile Armindo Sieb Passato Autoblu Paratazza Mamma mia Quest'anno i portieri sul loro primo palo sembrano veramente degli stupidotti Proprio di quelli che dicono Che ci faccio qui sul primo palo? Cosa devo fare sul primo palo? Io copro il secondo Autoblu ancora Dentro Gladz L'aveva a posto di Vipotnik Non ci penso nemmeno Di fortuna con Kim 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 Na so lì Oh ma che fai Angels? Oh Koenigsdorfer Un po' stacco Koenigsdorfer Se ne va comunque Koenigsdorfer 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 Frohnisch Frotter Il pareggio di Frohnischorder Andiamo Oh la possiamo vincere Assegnato per noi Con il numero 27 Ludovic Frohnischorder Ma che fate melina brutti stronzi Eh? Se stecco eh Non me ne frega niente se mi cazzano Fima è so realistic Eh la recuperiamo qui Dove va? Ma dove è andato quello? Ma che te l'ha detto? Vabbè Don Pei Ancora ubriaco Fradic Oh non abbiamo più tenuto palla Da quando abbiamo segnato eh Mannaggia i vostri Dei canadesi Ah mi sto E niente Vabbè È un bel pareggio contro il Furt Un bel pareggio Furt In inglese L'abbiamo Furt Ma cosa vuoi intervistare post partita? Ma insomma è stata dura Diciamo che a tre minuti su questo FIFA è molto molto complicato eh Non è semplice Vi pago Cosa vi pago? Pari 2-2 è finita Siamo La moglie ha detto che c'era il Black Friday Allora dovevo uscire dal campo Cono Goddard Freud's Goddard Freud's Goddard Uh Ah Scusate Offredovi il prestito a Nemeth Avete rotto le palle Io blocco Nemeth Ok Siamo capiti Allora Dobbiamo cambiare il ruolo a Dompe 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 Furbacchiotto Dompe Un furbacchiotto di quelli Allora Per questo scontro diretto Che c'è fra 15 mesi Io non capisco perché mi dovete inviare Cioè ma non si può fare come nel telefono vero Disattiva le notifiche Dai Ve prego Ve prego Allora ricevo scontro diretto Direttissimo Contro il Fortuna Dusseldorf Questa volta Vi faccio già partire Vincoperto pareggio E Mi verrebbe da dargli Un pugno in bocca No Non so perché Mi verrebbe da giocare con la titolare Però voglio provare Guerra Voglio provare guerra Sì Ok Però facciamo anche le seconde linee Per il favore Dentro Benes E Vipotnik Al posto di Klatzlel Ok Quindi questa è la formazione titolare Sono contento Direi che possiamo andare in campo Sempre sul perso e forciamburgo Non sarà semplice Posso soddisfare quando sei nel calendario Schiacci il triangolo Eh no ma io le voglio sempre Disattivate Non voglio neanche che mi arrivino Oh attenzione rissa Tra Kronfrother E il suo Nemico Del fustuno Dufthroth Che si chiama Feral Maul Vorrei portarmela a casa Questo Vorrei portarmela At home Bella Dove scappi Il race Dove 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 Aravena Arthur Sulla sinistra S'accenta Race Per Nemeth Stanno subito avanti Nemeth Sì Tagli Il burle fa Il burle Il burle fa godere quest'anno Yes Bravo Nemeth Bravissimo Se Don Pei non segna Noi al privè Non ci andiamo Se Don Pei non si fa sfondare No Forse anche non l'ho letta Perché No Oh Dove 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 L'hanno visto Nel privè Con la moglie Di Miche Con la moglie Di Franze Con la moglie Di robe Con la moglie Di Occhio Occhio D'Apple Camp Auto Blu Con Rocconi Di Fran L'hai messa lì Ho messa là Aravena Ero strettissimo Aravena Fallo Director Guardalo Questo ce l'ha Ce l'ha questo colpo Arthur Andatelo a vedere Giocare Arthur Ce l'ha questo colpo Conisturf Conisturf Nemeth Gorka Mannaggia Gorka Bottana Aravena Arthur Ancora Gorka Non mi dà nessun attaccante Per poterci andare Guerra la tiene viva Una finta Aravena Ancora Aravena Aravena Pala fuori Vamogli di Franze Dompe Dompe Ferai Forse il verbo Ferare Aravena Arthur Spinge Race Ci allontaniamo dallo specchio Però Ancora Orca boia Che steca Che gli ho dato Eh vabbè Spiazzo Ci hanno perso tutto finora Mi potete aggiornare No No Sto scherzando Stavo solamente Facendo passare il tempo Della Della battuta Della risposta Che cosa vuoi che ti dica Ma prima in classifica Abbiamo preso un fumo di gente Da cui Andrej Kazan Vipotnik Ho preso di tutti i colori L'ho preso Non posso prendergli il pallone Mamma mia Autoblu Ma che parata è No Ma guarda che Ma guarda che sfortuna Vermei Gran colpo di testa Autoblu Non parla nemmeno Guarda Mi mangio tutto Quello che ho detto Su Autoblu Ah Un gran colpo di testa So che avrà poco appeal Ma volevo sponsorizzare Per chi non avesse nulla da fare Venerdì sera Alle 21 La partita Italia All Black Su Rai 2 Per la prima volta Nella storia del rugby italiano Abbiamo la possibilità Di battere la Nuova Zelanda E qualificarci I quarti dei mondiali Scusa lo spam Attenzione No no va bene Sono contento Ma perché abbiamo la possibilità Di battere la Nuova Zelanda Secondo te Che io non ci credo molto Non sono uno che segue Però quando gioco all'Italia Seguo sempre l'Italia Io Qualsiasi sport Esso sia È stata rimanata a sabato Vabbè Fattemi sapere chi la vince Ma chi c'è in finale Ah è passato Arthur Nemeth Ludovic Reis Per il 2 a 1 La tempo è scaduto Ma va bene lo stesso Che siamo forti Loro sono in Ma quindi c'è stato Uno sveglione Nel rugby italiano C'è stata una svegliata Generale Allora Sapete che alla fine Per 2 a 1 Per 2 a 1 Quanto vorrei sbagliarmi Riproviamoci Riproviamoci Listes Konigsdorfer Nemeth Listes Di prima intenzione Ludovic Reis Ancora Nemeth Mannaggia i sandali E vabbè Il corso preferito Reis Ancora Listes Ancora Listes È passato Listes Per Nemeth Il link verde ungherese Ci piace Oh sì che ci piace Doppietta di Nemeth Assis di Listes Si goda 3 a 1 al Fortuna Coninfruff Coninfruff Mitico Coninfruff Cambi 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 Gestione squadra Fuori a Ravena Dentro Andreica Basta L'hanno visto Con le rose Con le rose Nel metro E tu E tu Questo era Un bruttissimo Coro Che dicevano Ai tu Quando giocava Nell'Inter Brutti cattivi Non siete Altro E invece Vi purgava Sempre Godo E tu Attenzione Listes Non è simpatico Come il coro Che si fa A Dompe Di certo Francae Miche Robè Non saranno Contenti Però Almeno Listes Nemet Nemet List Alistes Mortazzi E L'escriz 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 Sono spaventato Pensavo fosse entrato qualcuno in casa Tanta roba commesso Tu trust me Trust al processo Fai la carriera col Rapid Vienna Fai la carriera col Rapid Vienna Perché il tuo successo è assolutamente dato da stare Odreica Dammit Ma va scusate Possiamo non fargliela riaprire Mamma mia Hai un Hai un Hai un Grande tifoso Ne metti Lì stess Ma che minchia fai Lì stess Mano giusto Visto anch'io Poi riguera dentro Angels Ma fa È rigore È rigore È rigore Grazie Umeboshi per il follow È cazzo di rigore È calcio di rigore Rivediamo Rivediamo il replay Se vediamo da qua il replay No non è questo il replay Vabbè Ma è ben sì Ma è questo il replay Vediamolo Nooo Ma non può essere rigore Io ritolgo i falli di mano ragazzi Non è giusto Non è giusto Per questo Tirerò questo rigore Con il pallonetto Coning's Dolph Anquattro a 1 Hamburgo Ma io ti avevo anche ringraziato Per il follow A saperlo Non l'avrei fatto Boom Yes My man Yes Let's go Vittoria Super importante Super importante Andiamo Bravi ragazzi Bravi tutti Andiamo a vedere i dati di partita Ma non i dati di partita Questi Intendevo i dati di partita Questi Io ero in campo Nemeth Con 2 gol e 1 assist Alla grandissima A pari punti Con Royce Reis 1 e 1 Gol e assist E Non male Entrambi 10 E' un po' che non si vedevano dei 10 Forse su questo FC24 Vedremo Dei 10 Ok Bene Sono mucho Mucho Consciencio Sono mucho Mucho Consciencio Ehm Proviamo a simulare Questa controlla Nofa Poi chiudo Pinsiamo 2 a 1 Aravena La nostra droga Questa coulda Questa 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 Questa